Ciao ragazzi, è appena finito il Mr. Olimpia 2023 e come potete vedere ha vinto Derek Lansford. Qui abbiamo la fase di premiazione, però la cosa più strana è stato il fatto che mentre gli atleti erano ancora sul palco dopo le premiazioni, Adi Chupan se ne sia andato ed essendo quindi il campione in carica non ha accettato per niente la sconfitta. Però passiamo al vivo dell'azione, qui abbiamo una side chest. Vediamo il braccio di Adi, il tricipite è molto più grosso e anche la spalla sembra, a livello di definizione sembra messo meglio sempre lui, che però ha lo stomaco un po' disteso. Poi abbiamo una side tricep, veramente qua Adi ha una definizione di addome e soprattutto obliqui, veramente pazzesca. Vediamo anche i quadricipiti, veramente super striati. Però qui Derek fa un bel vacuum e quindi questo secondo me verrà apprezzato perché negli ultimi anni il bodybuilding open è sempre stato criticato per gli stomaci distesi, per cui verrà apprezzato secondo me. Qua abbiamo la most muscular che darei ad Adi, sempre per il fatto della definizione. Poi abbiamo uno scambio di posti e vediamo cosa ci mostrano. Allora, una rilassata frontale che darei ad Adi senza ombra di dubbio. Poi abbiamo una lat spread frontale e qui veramente si vedono i quadricipiti di Adi che distruggono quelli di Derek perché sono super striati, super definiti, super vascularizzati. Per quanto riguarda la side chest qua invece sembra messo meglio il braccio di Derek. E infine vediamo una back double bicep, presumo, esatto. E qui vediamo il bicipite di Adi che veramente distrugge quello di Derek, quindi ha fatto bene. Quindi ha fatto bene ad incazzarsi. No dai, però almeno adesso abbiamo Derek che era stato campione nella 212 e adesso è campione nella open. e penso che fosse una cosa che non era mai accaduta prima, per cui veramente complimenti a lui e all'allenatore di entrambi che è lo stesso, Annie Rambod.